A cura di Isabella Cedro, quest'oggi vi parliamo della mostra Oise Uccelli a cura dell'Allianz Française. La mostra Oiseau, allestita dall'Allianz Française, si costruisce intorno alle opere fotografiche di Bernard Plossu, viaggiatore e migratore, come lui stesso si definisce. I suoi scatti sono raccolti nel libro Des Oiseaux, edito da Xavier Baral nel 2018, con fotografie in bianco e nero e testi dell'ornitologo Guillaume Lesaffo, un viaggio in varie zone della Terra con protagonisti gli uccelli. Le immagini evidenziano come il forte legame che tali animali intrattiene con la natura e con la sua ciclicità si conserva inalterato nel tempo, nonostante l'urbanizzazione abbia sottratto spazi sempre più bassi al suo habitat. Le fotografie di Plossu mostrano l'adattamento degli uccelli agli spazi costruiti dagli uomini. La storia del rapporto fra l'uomo e gli uccelli è antica, la ritroviamo nell'antropologia, nel mito, nell'arte. Intorno all'opera di Plossu prende corpo la mostra con le opere di altri 16 autori, tra cui Nicola Amato, Pantaleo Avellis, Sofia Doria, Jean-Paul Dupuis, Antonio Paradiso e altri. Uno stormo di artisti che con materiali, tecniche e cromie variegate si sono ispirati all'animale allegorico per eccellenza. Il messaggio che se ne trae è che solo un rinnovato e pacifico equilibrio uomo-natura garantirà la sopravvivenza del pianeta. Il messaggio che si sono ispirati all'animale allegorico per eccellenza.